Noi dobbiamo partire da una possibile autocritica, perché esattamente due mesi fa, proprio qui, dottor Capanzano, a tg2.it, lei disse, beh, vabbè, diciamo, l'oro è un bene, rifugio, io non lo vedrei male come possibilità di investimento, però è accaduto che da due mesi ad oggi, come d'incanto, il valore dell'oro è diminuito, succede sui mercati, circa il 10%. Allora, la domanda è, pentito? Pentito no, anzi, riconfermo la mia opinione anche se lei ha fatto un'osservazione opportuna e appropriata. Effettivamente l'oro è sceso in queste ultime settimane, ma questo non tanto per una legge di mercato, quanto per un fatto speculativo, ovvero sia oggi il mercato, da quando c'è la globalizzazione, non è più un mercato dominato dalla domanda e dall'offerta, ma dalla speculazione. Gli investitori sono diventati quasi tutti, diciamo, degli speculatori che cercano di approfittare di ogni movimento in su e in giù delle merci, dei titoli, per fare profitto. Allora, fra gli oggetti e le merci che vengono trattate, ad esempio il petrolio, tutti questi aumenti sono frutti della speculazione. In questo momento la speculazione si è diretta sui beni alimentari, che è una cosa gravissima, e quindi c'è chi specula facendo aumentare senza nessuna ragione, senza motivo, il prezzo degli alimentari al punto che si creano dei gravi problemi in tanti paesi poveri. L'oro è soggetto in questo momento a un po' di trascuratezza da parte degli investitori, però quello che vorrei dire è che alla lunga l'oro non va visto come una speculazione, ma come un investimento tranquillo, sicuro, una garanzia per l'avvenire. E infatti lo è, perché se noi ad esempio vogliamo comparare il prezzo dell'oro al dollaro, al valore del dollaro, possiamo partire dagli anni 70, quando il dollaro rispetto all'oro aveva questo valore che adesso possiamo far vedere visivamente, ovvero sia per ogni biglietto da 1000 dollari, questo è un biglietto da 1000 dollari, non ce ne sono più oggi in giro, ma nel 70 è un biglietto originale che circolava, corrispondeva a 20 monete da 50, 50 monete da 20 dollari, 50 per 20 fanno 1000, ovvero sia con un biglietto da 1000 dollari si potevano avere in cambio, perché il dollaro era convertibile, 50 di queste monete, monete autentiche. Sono vere, professore? Dottore, sono vere le monete? Beh certo, sono vere assolutamente, devo dire è tutto vero, come è vero il lingotto, come è vero il biglietto da 1000 dollari, anche perché il direttore del Tg2 mi ha detto, noi al Tg2 dobbiamo far vedere solo cose vere, anche le notizie, io credo, e allora mi sono adeguato, queste monete sono monete autentiche, si sente e anche poi si vede, monete da 20 dollari, cosa voglio dire, con questo biglietto negli anni 70 io potevo cambiare o comprare 50 di queste monete per un peso ognuna di 33 grammi, per un totale di 1,670 kg, tutte queste monete se io le avessi oggi, avessi cambiato il biglietto, avrei in tasca se le volessi oggi cambiare 30.000 euro, che sono una grande somma, se invece io prendo un biglietto da 1000 dollari che negli anni 70 valeva questo, e lo voglio cambiare oggi, invece di avere 30.000 euro ne ho solamente 700, 700, guardate un po', questo è quello che io avevo prima, questo è quello che avevo dopo. Chiarissimo, chiarissimo, senta qua, dobbiamo chiudere Dottor Cavanzano, però dica al volo, il nostro sondaggio è oggi, l'oro, l'oro di casa, lo guardiamo più con gli occhi del portafogli o con gli occhi del cuore, lei il suo oro di casa, con quale occhio lo guarda? Maggiormente. Guardi, dipende dalla quantità dell'oggetto, al volo, allora un oggetto come la catenina della nonna ha un valore affettivo, un oggetto come questo lingotto grosso da 4 kg d'oro non ha valore affettivo, quindi lo guardo solo dal punto di vista speculativo. Grazie Dottor Cavanzano, buona giornata e buon lavoro, buon primo maggio. Allora, adesso continuiamo.